E bentornati sul canale di Insanity Boys Oggi siamo qui con la recensione di un film incredibilmente Per fortuna per uscito su Netflix Oggi siamo qui per la recensione di Love and Monsters And Monsters Allora, and Monsters, scusate, basta Allora, nuovo film uscito ieri su Netflix Di Michael Matthews con protagonista Dylan O'Brien Allora, di cosa parla questo film qua? Anni dopo un'apocalisse Che ha cancellato il 95% dell'umanità Causa insetti e altri animali Mutati da radiazioni Provocate dall'uomo stesso Nel tentativo di far esplodere Mometi verite Che sta per uccidere Tutta l'umanità E che alla fine il risultato non è cambiato Un ragazzo chiuso in un bunker Da 7 anni Decide di andare a cercare la sua amata Perché è riuscita a rintracciarla La tramite radio Visto che lei è molto lontano da lui Per farlo Però ovviamente dovrà risalire in superficie Cercando di evitare e salvarsi dai temibili Monsters Allora, quindi Love and Monsters Amore Allora, a me questo film è piaciuto È veramente piaciuto Mi è intrattenuto Non mi aspettavo di vedere un film Con una trama mostruosa Mostruosa l'uomo Basta Però comunque Ho visto un bel film Che ha saputo intrattenermi Che non stanca Pur portando di base Una trama già vista Bisogna andare da lì a là Evitando quello che c'è in mezzo Abbiamo visto un miliardo di volte Grazie Allora, questo film funziona Grazie a diverse cose Anzi, in realtà Ha pochi difetti Questi difetti Sono quasi tutti Verso la fine Il vantaggio è La regia Che è molto buona La regia di Michael Matthews Che è il suo primo film importante Diciamo E soprattutto Grazie all'interpretazione Di Dylan O'Brien Che in questo suo personale One May Show Perché alla fine è lui Il vero protagonista del film Cioè si vede nel 90% Delle inquadrature Riesce a tenere in piedi Il film Con una performance Con la performance Del suo Joel Che è il nome Del protagonista del film Molto Molto valida Perché il personaggio di Joel È un personaggio Molto interessante Il modo in cui viene raccontato Da se stesso È molto interessante Perché questo film È raccontato Non tutto Ma soprattutto La prima parte Con la voce fuori campo Di Joel E questo è molto Molto bello Ma la voce fuori campo Di Joel Viene fuori diverse volte Non solo per raccontare Quello successo O quello che succederà Ma anche a livello di Love Per la parola love Del film Ovvero Lui Racconta le lettere Che scrive A A Amy La sua amata E quello Che pensa di lei E il fatto che Mi manchi un sacco Queste cose qua E quindi È anche Questa è una caratterizzazione Del personaggio In più il fatto che lui È una persona molto timida Molto Che Si vede nella prima scena Quando arriva la formica gigante Che si blocca Si pietrifica Che ha una mira del cazzo Che Che non è bravo Con le armi E lui è sempre stato in cucina È giovane È inesperto Queste cose qua Giocano a vantaggio Del personaggio Per il film Perché Esempio Il Will Smith Di Io Sono la leggenda E Cioè Andava così Nei zombie Andava così E Andava in mezzo Agli zombie Andava veramente A cazzo duro Qua invece Lui No Lui Al minimo fruscillo d'erba Lui si nasconde E E Questa è una cosa positiva Per il personaggio Per il solito film Dove c'era il Il Super mega gigante Muscoloso Di turno No Invece qua Ci piace questa cosa qua Del personaggio Il film ha diverse frecce Al suo arco Frecce Lui che usa le frecce Ma basta Queste Ovvero Ha dei buoni effetti speciali Soprattutto Ovviamente Sui mostri Che era quello Su cui bisognava puntare di più Sono fatti molto bene Non sono esagerati E questa è una cosa Importante Perché mi facevi Mega mostri giganti Per super Mega galattico No Invece sono Sì Mutati geneticamente Sì Una formicca Che è enorme Però comunque Contenuta Come dimensioni Ambientazioni suggestive Con atmosfere Sinistre Sinistre Quasi da videogioco C'è una D'atmosfere E questo film Alla fine È un po' Un open world Se vogliamo Collegarlo A un videogioco È un po' Un days gone Un uncharted Soprattutto come paesaggi Perché siamo immersi Nella natura Selvaggia Ogni paesaggio Ha le sue caratteristiche Ha i suoi pro E i suoi contro Ha Un habitat Che puoi sfruttare A tuo vantaggio Ma anche Tanti svantaggi Questa Che ti puoi salvare Perché vai nell'acqua Ed è un Nel fiume Però nel fiume Alla fine c'erano le sanguicciughe E lì Te la sei presa nel culo E quindi va bene C'è nel senso Va bene il fatto che c'è 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 un dei pro e dei contro Nel paesaggio Molto molto suggestivo E tutti diversi Gran ritmo Nel film Non è un film che non stanca È un film Con nessuna scena in più E nessun dialogo in più O inutile Tutti le scene Il film E i dialoghi Sono funzionali Servono per arrivare A una scena dopo O per arrivare Alla conclusione Della stessa scena O Scena a seguire Esempio Faccio un esempio Il discorso Delle Bacche Che sono velenose Tu dici Vabbè Non devi mangiare le bacche Ok E ti si ricapita dopo Quando K vuole avvelenarlo Non capita in America Poi Quando C'è il Quando Clyde E Minno Gli dicono Che queste felci Qua Sono buone Per l'avvelenamento Dici Vabbè Ok Un po' Tempo dopo Lui avvelenato Dalle sanguisughe Sviene Ma c'è una felce Di vicino La mangia Sicura Esempio Un altro esempio Ovviamente In questa versione Ci saranno spoiler Attenzione Ma ormai Dovreste saperlo Dove Ci sono i mostri buoni Che avevamo incontrato La lumaca E li vedi E E Joel Si ricorda Quello che gli ha detto Clyde Ovvero che ci sono Alcuni mostri buoni Li riconosce dagli occhi E l'ha visto Nel granchio gigante E vedi In altra cosa Tutte cose Che sono state dette Prima Che ti sono servite Dopo E questa è un'altra cosa Un aspetto Molto importante C'è un'azione Spettacolare Le scene d'azione Sono molto belle Non sono confuse Si capiscono Non ci sono Miliardi di scene d'azione Ma quelle che ci sono Si capiscono Sono fatte molto bene Il background Per Sancio di Joel È molto interessante Con Scene intense E scene Scene più Soft Cioè lui racconta Il suo passato In maniera soft Scene invece Molto più intense Che una persona Potrebbe anche Comuoversi Come per esempio La scena Quando incontra Mavis Anche lì Per esempio Lui quando Nel bunker Con la sua colonia Dice Io non ho mai visto Mavis vivo E dopo Ti si ritrova Il Mavis vivo Mavis con L'uno A posto dell'Erico Andiamolo Che lo ripete spesso Quella scena lì È molto bella È molto divertente Quella scena lì Secondo me è una delle più belle Perché è molto bella Cioè È completa Perché è divertente È commovente Vedi dei mostri Ma non sono mostri Che ti attaccano Perché comunque dopo un po' Le mostri che ti attaccano Ti rompicoioni Cioè non puoi essere così sfigato Anche un po' Di tranquillità Il discorso alla mamma Quando Mavis Mette la faccia Al posto del suo schermo La foto della mamma E lui Dice alla mamma Quello che Noi ha detto Quando è morta Prima di morire Quella scena lì Secondo me è una delle Tre scene più belle Forse 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 anche Tra le prime due Allora Secondo me la scena più bella È questa È quella della formica Perché è Per regolette Lo svezzamento Di Joel Come uomo Perché lì Si ricorda Anche quella lì È una scena completa Perché c'è la drammaticità Del momento Che sta per morire il cane La drammaticità Del momento Perché si ricorda Sua mamma Quando è morta Che non l'ha salvata Invece qua Salva Il suo cane Boy Usando tra l'altro Le due frecce Della sua balestra E quindi Tutto il percorso Che è stato fatto prima Con il discorso Del mirare Che lui non sapeva fare niente Di armi Di mirare Di niente E invece ce la fa Quindi quella scena lì Secondo me è la migliore Al secondo posto Ti metto quella di Mavis Perché anche quella scena lì È molto bella Quindi Background Il personaggio di Joel Molto Molto interessante È fatto bene Cioè è ovvio Che non è un personaggio Di 90 anni Che ci ha fatto una vita Non è Clint Eastwood È un personaggio giovane Quindi non è che c'è Una vita mostruosa Da raccontare Però quello Che è stato raccontato Te lo racconta bene Anche Quando è scoppiato tutto Quando era nella macchina Nel passato A 17 anni Con Amy Che stavano Corpulando Ed è scoppiato tutto Anche quella scena lì Ed è passata Molto bella E lì Anche il discorso Dei disegni Molto importante Anche quella scena lì Poi Altre frecce Al suo arco Ha il cane The Boy È quasi un attore Non sto chiamando Perché quel cane lì Dà tanto al film Ed è strano Perché in alcune scene Sembra proprio Che il cane reciti Quando va a abbracciare Mino che se ne sta andando Le espressioni Cioè Ci stanno Il fatto del Del vestito rosso Che era Della sua padrona Quindi quel cane lì È veramente In alcune scene Veramente Dà una Dà qualcosa in più In alcune scene Quel cane lì Anche se Il suo temporaneo Addio E il suo E il suo ritorno Soprattutto Potevano essere Venire gestite meglio Il ritorno Di Boy Quando lo Torna per aiutare Joel Contra il granchio È un po' Supereroistico Quel ritorno lì Però vabbè Cioè io non avrei mai fatto Abbandonare Joel E E Boy È veramente in più Quella scena lì Ecco forse quella lì È una scena Non è che in più È che è stata gestita male Quella scena lì Perché è L'addio temporaneo Di The Boy Ma arriva subito Di Boy Scusate Ma arriva subito Anche Amy Il ritorno di Amy Quindi Meno uno Più uno Però Non lo so Io non l'avrei mai fatto Andare via The Boy Quindi ecco Il ritorno di The Boy Soprattutto è un po' Supereroistico Ma vabbè Ci può stare In un film del genere Poi ecco Un'altra cosa Che mi ha fatto Un po' starciare il naso Sin dall'inizio È che da parte di Amy Sia quando Joel parlava alla radio Sia quando Si vedevano nel passato Le scene nel background Di Joel nel passato Non si è mai percepito In Amy Lo stesso amore Che trasmetteva Joel Joel era Frappo innamoratissimo Di lei Era Stava a vedere per lei Amy ogni volta Anche quando lui dice Ti amo Quando stanno andando via Nel passato Che è scoppiato tutto Lei Pausa Di un secondo e mezzo Anch'io C'è qualcosa di strano Infatti Il finale Non ve lo dico Si è visto Quello che è Quindi ecco Già dall'inizio Si percepiva qualcosa di strano E Quel discorso lì Di Amy Non mi è piaciuto tanto Come l'hanno gestito Il fatto che appena lui torna Appena loro si rincontrano Tra chi piazza la bomba È sicuramente originale È anche abbastanza ovvio Il fatto che appena lui tornasse Sarebbe successo Appena lui Appena loro Scusate Si rincontravano Sarebbe successo qualcosa Però Quello che è successo Non mi è particolarmente piaciuto Anche perché Stona un po' col titolo Love È l'atto d'amore Che Joel fa Ok Monsters Non si discute Però Certo Eva Era troppo smielato E vissero tutti felici e contenti Ripeto Ci sta Quello che è successo Avrei preferito Fosse gestito in un altro modo Con qualcosa Tipo Non dico un amante Però Qualcosa Di un po' più profondo Di Non ti vedo Da sette anni Mi sono Fatta una vita Ripeto 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 Ci sta Capita Però Avrei preferito Fosse gestito in un altro modo In qualcosa Di un po' più intenso Poi abbiamo Un altro discorso Molto interessante Che è il discorso Del libro Dei disegni Molto importanti Che Sembravano Una cosa Bozzata Così All'inizio Non ci facevi tanto caso Vabbè Lui disegna Bravo Infatti Anche nella scena Del passato Quando sono in macchina La disegna In maniera Warren Vabbè E invece Dopo diventa Quel disegno lì Diventa la guida Per sopravvivere All'esterno Infatti C'è la Gli è la regala Ad Amy Se ne rifà Una sua Personale Un po' più grande E Soprattutto Dopo Parla Della Della guida Per sopravvivere Anche alla radio Qua si ricollega Il discorso della radio Con tutti che escono fuori E combattono i mostri E qui sia Possibile Scenario Per un sequel Che secondo me Potrebbe anche starci Non è indispensabile Ma potrebbe starci Non è una Non è una brutta Non sarebbe una brutta idea Le basi Qualcosa c'è Anche perché Comunque in questo film Il vantaggio Per un possibile sequel Che soprattutto Minno E Clyde Parlano De questi Come si chiamano Di tanti modi Lo spaccaossa Lo schiacciassassi Lo I pestamandri E un sacco di Di mostri Ma tu ne vedi pochi Di mostri Qua in questo film Ne vedrai 5 Giustamente Che ti possono mettere 28 mostri Quindi Il fatto che Tanti mostri Non sono stati Raccontati Visti Mostrati Affrontati Può essere una grande idea Visto che comunque Abbiamo sentito Che ci sono mostri Molto molto grandi E quindi Questo può essere Un vantaggio Per un sequel Poi Allora Due personaggi Aggiuntivi Che mi sono piaciuti Sono Minno E Clyde Che sono due personaggi Fondamentali Per il film Che insegnano Tutto Praticamente A A Joel E sono personaggi Che in un Impotenti sequel Sicuramente ci saranno E poi Vabbè Ci sono i personaggi Dei cattivi Il capitano Lì E Gli altri due tizi Gli altri suoi due scagnozzi Che Vabbè Sono i soliti cattivi Che durano 20 minuti Forza Infatti Questi qua Durano meno di 20 minuti E vabbè Non ti ci affezioni tanto Infatti Non ti ci deve affezionare Perché muoiono Entro 15 minuti Questo è quello che penso Del film È un bel film Di dettenimento Io lo consiglio È un film Per tutti Alla fine Perché non è Particolarmente Sanguinoso Certo Ci sono dei mostri Un po' schifosi E chi ha paura Degli insetti È un film Non proprio consigliato Però non è che ci sono Sangue Budella Robbe che È un film Diciamo È un po' per tutti Il mio voto È 7 e mezzo Mi sono molto molto divertito Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Di questo film Il vostro voto Bajano a Facebook Profili Instagram Iscrivetevi al canale Ci vediamo Nella prossima puntata Con i Sonity Boys Che affronteranno Uno spacca sassi 3-2-1 Di litro Scrivetevi al canale